Una bella piccola ghiacciata. Mattia, un bue burger alla moda di verrucchio con le vere patatine fritte. Grazie. Mattia, vieni un attimo. Ma te lo sai che io abito in un palazzo dove si è rotto l'ascensore? Non puoi sapere che vita d'inferno che faccio. Io faccio il rappresentante, Mattia. Io sto in giro tutto il giorno. Quando torno a casa non vedo l'ora di entrare in camera mia, togliermi le scarpe, farmi una doce. C'è quello, quello dopo la mia pausa pranzo e il mio secondo momento di relax. Insomma, l'altro giorno me ne torno a casa dopo una giornata stressante di lavoro, carico di bagagli, metto davanti l'ascensore, pigio il pulsante, passa un minuto, passa due minuti, dell'ascensore neanche l'ombra. Allora provo a forzare la porta, ma niente, da dietro, sento la portinaia che dice Ma non vedi che è rotto? Faccia le scale, che un po' di sport le fa bene. Le scale. Le scale, capito, Mattia? Ma dovete fare le scale? Io abito al quinto piano, Mattia. Come devo fare le scale, capito? E poi io giro tutto il giorno su e giù per l'Italia. C'avevo più di 300 chilometri sul grappone. E me lo dice lei, capito? Me lo dice lei. Ma fatele te, le scale, che pesi più di 100 chili. E per te la vita è facile, perché vivi al piano terreno. Ma che schifo devi te, eh? Mattia, che schifo devi te? Non se ne può più, che schifo. Mattia, che schifo devi te? Mattia, che schifo devi te?